Show the bridge, ma non il solito show the bridge, ok? Quindi quello che conoscete tutti è un po' diverso questo. Torniamo con le gambe in parallelo. Sempre se avete bisogno di allontanare la testa del femore dall'acetabolo, lo potete fare alternando la spinta del tallone della mano sulla radice della coscia, oppure lo potete fare in espirazione in contemporanea, eh? Ok, bene. Allora, mettiamoci in posizione semisupine, detta anche hook line, con le mani che sfiorano il tallone, ok? Da questa posizione vado in bridging, up, 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 e fin qua niente di difficile. Bene. Poi sollevo una gamba, ok? Fin qua niente di difficile. Mantengo questo gluteo attivo, piego il ginocchio. Attenzione, due mani spingono contro il ginocchio in questa maniera. Il ginocchio spinge contro le mani in questa maniera, quindi movimento isometrico di gamba contro mani e mani contro gamba, e mentre spingiamo il bacino sale e scende. Vai. 10, 9, 8, 7, 6, strizza la plica, 5, 4, 3, 2, 1, strizza bene la plica, continua a spingere con questa gamba contro le mani e con le mani contro la gambe. vai, su, 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 ancora se ce la fate, dai, e up. Grazie. 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 Grazie.